Poesia, sembra che non ci sia, poi l'incontro... In questo saggio significativo l'autore ci si ripropone come un medium dando voce ai suoi nati dati e poi probabilmente ci riferisce di atti eroici ai più di noi sconosciuti, anche se piene il significato eroico, quale verità, giustizia ed amore. Riportando alla voce questi avvenimenti, l'autore si qualifica come benefattore della memoria dell'umanità. Complimenti Emanuele. Bene, anche senza microfono, intanto un semplice grazie perché prima cosa di tutto questa equipe, questo staff di questo concorso, anche l'anno scorso che purtroppo sono causa di un incidente, mi è stata vicina, mi è arrivato un regalo a casa, quindi io ho nel cuore. Come facevano a venire oggi, anche se trovare la strada è stato molto difficile. Comunque, va bene, io do a te il libro che praticamente è stato menzionato prima, che l'anno scorso vi ho mandato, finalmente sono riuscito a stampare. Bene, complimenti, complimenti, grazie, grazie a tutti.